buongiorno pif d'accordo per la granita ma mi pare che oggi non sia giornata adatta e buongiorno a tutti quelli che ascoltano la nostra discussione potrebbe essere una discussione intorno alla relazione al rapporto tra cinema e storia oppure tra narrazioni cinematografiche o comunque popolari e narrazione scientifica di un evento storico questo mi pare possa essere il cuore del nostro problema ebbene innanzitutto io sono lo storico e prendo la parte degli storici ora dico che cosa ci mettiamo noi e per storici non intendo lo storico accademico o qualcosa di particolarmente irraggiungibile o paludato intendo la professionalità dello storico e allora lo storico normalmente professionista storico fa una cosa non cerca i documenti dove capita e tantomeno su dagospie li cerca e li analizza all'interno di una di un loro contesto dove sono stati costruiti e dove hanno vissuto per così dire che significa questo significa che innanzitutto si può verificare in questo modo la veridicità di un documento ma si può verificare anche chi l'ha fatto perché l'ha fatto e che effetti ha avuto ora qui noi ci troviamo davanti al nostro documento controverso o in discussione che io ho pubblicato tanto tempo fa con questo titolo un usaggio con questo titolo allegoria del buon governo che da solo può anche non spiegare niente ma era esso stesso una spia per un ragionamento che falsificava la questione del mafia che aveva aiutato lo sbarco alleato e ci metteva su un'altra pista lo stesso scott non ci mette su un'altra pista quando dice che la mafia è un problema e non una risorsa e il lavoro è stato fatto su questo argomento sulla storia della sicilia pubblicata in audi nel 1987 lei può trovare anche in quel caso il mio contributo ma poi tanti altri studiosi hanno lavorato su queste su queste cose per esempio è salvatore lupo ha fatto un lavoro sulla mafia e in america e quindi la sua vita tra le due sponde dell'oceano e da ultimo la manuela patti che ha fatto un bel lavoro su aggiornato che tra le conseguenze da quelle vicende lì aggiunge altra documentazione e spiega come proprio in relazione proprio in a causa del rapporto scotton gli alleati si trovarono nella necessità di fare un'operazione antimafia altro che favorire la mafia o essere favorito dalla mafia quindi una narrazione completamente diversa rispetto a quella che era stata la vecchia narrazione consolidata e allora d'altra parte lei parla di elenchi gli elenchi non ci sono gli elenchi li ho pubblicati io su questa guida del l'ho trovati io su questa guida degli inglesi ma non sono elenchi di mafiosi semmai sono gli organigrammi dei comuni dei comuni siciliani dove c'è sindaco potestà mi scusi ufficiale sanitario parroco segretario comunale eccetera eccetera e tutto serviva per amministrare la sicilia si figuri che erano curiosi di sapere anche quanti erano i lettori giornalieri delle maggiori biblioteche siciliane perché perché dovevano capire che livello di cultura ci fosse che il livello di alfabetizzazione e in questo modo organizzare la propaganda queste sono cose importanti e vengono banalizzate mi scusi dico davanti con un discorso come quello delle coppole storte che fanno sbarcare un esercito di 250 mila soldati attrezzato a più non posso la più grande flotta mai riunitasi fino ai nostri tempi anche più grande di quella che poi fece l'operazione in normandia ma lo storico fa anche un'altra cosa lo storico cerca di capire perché è nata una diceria una diceria falsa come quella che lei ha riportato ma non solo lei tanti altri hanno riportato e riportano come se fosse va in cielo cioè perché da dove nasce questa vicenda della mafia che fa sbarcare gli alleati o dell'accordo del pactum sceleris tra mafia dalleati bene nasce nel momento in cui avviene lo sbarco le gerarchie fasciste avevano con grande apparato propagandistico convinto l'italia di essere una grande potenza che poteva affrontare contemporaneamente si immagini inghilterra stati uniti e un'unione sovietica ci pensi un attimo che significa una cosa di questo genere l'italia che affronta queste tre potenze anche assieme alla germania ma era sempre troppo e si erano auto convinti di essere una grande potenza solo che poi la il risultato all'atto pratico e rovinoso lo sbarco avviene con nel modo in cui avviene e allora si urla al tradimento non solo per questo ma si dice che gli ammiragli hanno tradito si dice che l'esercito non ha combattuto bene si dice che altri hanno non hanno fatto il loro dovere e così via c'è una la colpa della della sconfitta a tanti padri diciamo così ma qualcuno dice il tradimento vero è stato la mafia che ha aperto le porte ha aperto le porte della sicilia questo è un dato che viene detto proprio nel 43 successivamente viene ripreso da michele pantaleoni nel 62 scrive un libro dove ricostruisce questa storia libro e mafia politica un libro celebre molto famoso che per la prima volta parlava di mafia in modo compiuto diciamo così ma che riprende questa storia in un contesto completamente diverso che è quello delle sinistre siciliane che trovano un nemico perfetto mafia americani e demorezia cristiana che nel frattempo aveva preso il potere e allora questo diventano la semplificazione di un di una di una storia è usata in quest'altro contesto e diventa appunto la illustrazione del nemico perfetto e da qui la grande fortuna di questo stereotipo che però devo dire non convinceva già allora neanche gli storici di sinistra già rizzo per esempio o lo stesso ganci che pure non erano della stessa opinione su tante cose non ci credevano lei può controllare i libri fin da allora non ci credevano quando negli anni 70 si sono aperti gli archivi inglesi e americani e abbiamo potuto cominciare a lavorare sulle fonti archivistiche abbiamo potuto verificare alcune cose importanti di questo genere e trovare le tracce le tracce che come dice lei si trovano ma in una direzione diversa e mi lasci dire sono gli storici che un pochettino gli storici di professione quelli che capiscono meglio queste tracce come funzionano e dove vanno bene io la saluto cordialmente e restiamo sempre per la granita di cui abbiamo parlato prima